bene ragazzi benvenuti a un nuovo short video oggi vi voglio fare vedere da vicino il ciclops un piombo adatto un po' a tutto lo vediamo da vicino si tratta semplicemente di un piombo con da una parte e dall'altra un occhio e due agganci perché lo identifico come un piombo un po' per tutto perché si potrebbe utilizzare tranquillamente per una tecnica verticale con il vivo con il morto manovrato quindi qua attacchiamo la lenza della canna qua attacchiamo un assist che possiamo comporre tranquillamente sia di multifibre da assist sia anche di nylon con il mono amo o con più ami disponibili quindi i quattro colori che vedete rosa rosso verde e bianco fluo in questo caso disponibili anche le tre grammature 100 150 200 e 250 grammi li trovate chiaramente sul nostro sito internet grazie a tutti per essere stati con noi ci vediamo alla prossima e che la pesca sia con voi